ciao sono Gianluca Bocci e questo è il mio enorme studio che in realtà è piccolissimo l'illusione è data da un obiettivo grandangolare spinto non fate gli zozzi non speed quel senso ma è un 7,5 mm prodotto da un'azienda che si chiama seven artisans letteralmente sette artigiani cinesi che pochissimo tempo fa nel 2015 se non sbaglio un gruppo di amici appassionati e ingegneri ottici si sono trovati insieme hanno detto già perché non ci mettiamo a produrre delle ottiche di questo gruppone non specifico quanti sono ne sono sopravvissuti in senso simpatico soltanto sette e questi sette hanno messo in produzione delle ottiche per mirrorless come la panasonic che mi sta inquadrando in questo momento effettivamente costruite molto molto bene ma dal prezzo davvero aggressivo questo è il 7,5 mm per micro 4 terzi iniziamo a vedere subito l'unboxing ecco qui la confezione di vendita seven artisan lens tutta nera con le scritte lucide e con il 7 in evidenza e qui sotto due bei sigilli che prendo e giustamente vado ad aprire saccate e saccate facciamo sfilare o aiutino eccolo qui a fogliettino stato controllato con tutta la garanzia un minimo di istruzione in lingua orientale ma comunque c'è anche sì ecco qui lingua inglese gomma piumina e bustina eccola qui è davvero piccino ricordiamo che questo è per micro quattro terzi con il suo tappo cavolo ragazzi il tappo è metallo bella bella la lentona frontale le ghiere piacevole già al tatto e si vede il movimento quella per la messa a fuoco e quella per i diaframmi senza click quindi ne sono davvero contento perfetto per il video la baionetta anche questa tutto in metallo ragazzi è effettivamente pesantino infatti vado a far vedere più da vicino ma prendendo la bilancia ecco pronta la bilancina come promesso e ci andiamo a mettere sopra lui senza tappo senza protezione della baionetta 271 272 grammi davvero impressionante perché impressionante se noi prendiamo il mitico 30 mm macro sempre di panasonic lumix che poi con stabilizzato quindi su interno sia il motore per la messa a fuoco sia il motore per stabilizzatore guardate un po 181 grammi quindi davvero qui si sente materiale plastico qui si sente tanto tanto sano metallo ma appunto per farvi vedere meglio da vicino adesso monto il macro sulla panasonic e vi faccio vedere un paio di dettagli dettagli ovvero la grossa lentona frontale con questo accenno di paraluce sempre tutto in metallo davvero fantastico e quelle che sono le ghiere allora io ho già iniziato a usarlo dopo farci vedere i risultati e devo dire che le ghiere sono abbastanza particolari innanzitutto quella delle distanze guardate così siamo a infinito così siamo un metro di distanza è davvero velocissimo il passaggio dall'uno all'altro e c'è da dire che sono un po tanto fluide quindi se io ritengo il corpo macchina con la mano sinistra appoggiata sull'ottica è un attimo spostare la messa a fuoco o spostare quello che è il diaframma che va appunto da 2.8 tutto aperto fino a f22 tutto chiuso ma altro dettaglio che voglio provare a farvi vedere cercando di andare molto molto vicino vediamo se riesco a metterlo a fuoco si ci sono ecco guardate ragazzi che spettacolo ci sono ben 11 lamelle di messa a fuoco quindi davvero quando il diaframma si chiude è uno spettacolo a vedersi e poi perché effettivamente tutto questo peso così importante riprendo un attimo la scatola ecco qui effettivamente al suo interno ci sono ben 11 elementi in 10 gruppi quindi qua dentro c'è davvero tanta tanta sostanza tanto vetro ottico ma adesso vi faccio fare un piccolo giochino e vedere com'è l'effetto della messa a fuoco dentro la mia panasonic gh4 allora questa è la visuale all'interno del merino della mia panasonic gh4 la prima cosa che faccio vedere è come cambia appunto la luminosità della scena andando a spostare il diaframma e vedete che il fatto che non ci sono i click permette di passare in maniera molto fluida da f22 f8 f56 f4 f28 appunto il tutto aperto per la messa a fuoco è fondamentale avere il focus peaking io voglio mettere a fuoco sulla testa del peluche della giraffa così la messa a fuoco a infinito muovo lentamente ecco sono a fuoco sugli occhi della giraffa purtroppo la corsa è davvero molto molto veloce e quindi bastano poco millimetri per portare la messa a fuoco troppo dietro o troppo avanti bisogna essere davvero precisi che in situazioni veloci facce tra poco diventa complesso tra l'altro sulla scala delle distanze non è riportata in maniera molto precisa che in questo momento mi dice che sono a mezzo metro dal soggetto mentre in realtà il soggetto è a 20 centimetri ma andiamo a vedere i risultati allora innanzitutto devo dire che io amo i fisheye sulla mia nikon di 700 vecchia ragazza sono fidanzato con il 16 mm fisheye e lui questo 7,5 mm su un micro 4 terzi la focale va raddoppiata per il fattore di crop diventa un 15 mm quindi esattamente la focale che io amo perché amo il fisheye perché amo molto caratterizzare i miei scatti se faccio un ritratto voglio un'ottica lunga che mi dia un bokeh fortemente caratterizzante ma anche la deformazione che crea l'avete visto nell'intro il mio studio aveva tutte le pareti diventate curve lui caratterizza molto e questo mi piace ma guardiamo gli scatti iniziando dai miei pupazzetti il peluche della giraffa il cubo di rubic e il mitico capitano harlock vediamo che addirittura a 2,8 grazie al suo diaframma a 11 lamelle c'è anche un minimo di bokeh ma qui siamo a 20 centimetri aventi dai pupazzetti quindi anche un bello sfocato se passiamo invece da tutto aperto a tutto chiuso a f 22 si vede che comunque la nitidezza mentre prima era solo sul soggetto qui e dovunque e non ci sono particolari problemi da diffrazione attenzione però i difetti ci sono li vediamo meglio in questo scatto realizzato al castello dell'arancia di tolentino in realtà questo è un hdr quindi una fusione di due scatti uno per il cielo e uno per il castello dell'arancia in modo da bilanciare i forti contrasti che c'erano sembra molto bello ma in realtà è evidente il flare sulla finestra sopra all'ingresso appunto del castello dell'arancia e guardando in alto a sinistra le aberrazioni cromatiche questo viola sui contorni di quel piccolo pezzo di ringhiera ma comunque sono difetti che con due clic su photoshop si risolvono molto molto facilmente altra situazione se vogliamo uno scatto da quattro ruote da automotive qui abbiamo la mia fiat 500 c sport fighissima è la new entry in famiglia che già ha delle linee rotondate utilizzando un fisciaio ripresa molto ravvicinata andiamo a esasperare appunto queste linee rotondate le stiamo caratterizzando quindi lo scatto diventa ancora più incisivo ancora più attira l'attenzione dell'osservatore situazione invece in cui mi sono trovato davvero in difficoltà mi esogero presto questo cucciolo carinissimo ma come tutti i cuccioli è scalmanato non stava fermo un secondo poi tra l'altro quando lui si rivedeva riflesso nella lente frontale che faceva si avvicinava con il musso quindi in realtà gli correvo dietro ma andavo sempre a scattare o mettendo fuoco dietro o avanti sempre scatti sbagliati impossibile anche questo vedete è sbagliata la messa a fuoco quindi la messa a fuoco un po difficile per farvi vedere appunto che era davvero scalmato il cucciolo classico selfie perfetti io mia moglie le mie figlie e lui cosa fa al momento lo scatto si butta giù dal braccio di mia moglie quindi insomma impossibile fotografare questo cucciolo sarebbe stato più facile avere un buon autofocus ma qui giustamente è mano al focus ultima situazione che vi mostro situazione molto rock concerto dei magazzini della comunicazione pochissima luce infatti qui ho lavorato a 3200 iso tempo di scatto un centesimo secondo a modo non avere troppo mosso ma se vedete la mano del cantante mano del cos'è rossi il mosso comunque c'è ma sta bene e la luce tenue e mal impostata in realtà lo sfruttate a mio vantaggio perché ok il controluce qui va a caratterizzare lo scatto e l'ultima cosa vi faccio vedere è un spezzone di 60 secondi di riprese video perdonatemi per l'audio purtroppo il volume era davvero a bomba e il microfono messo alla minima sensibilità con il filtro passa basso comunque va in distruzione se dovete sentire un po meglio c'è il vecchio videoclip di questo brano che si chiama sex chimere qui sopra in schede però il video secondo me è venuto caratterizzato ho cercato anche col diaframma aprendolo e chiudendolo quindi le variazioni delle luci sono quelle che ho fatto più io più che le poche luci che c'erano e sono andato letteralmente quasi a sbattere in faccia ai musicisti quindi un video secondo me che sono contento di aver realizzato godetevelo buona visione e ci vediamo tra un po per le pacelline a 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 Mi non ho sentito, levo i sogni, i 24, ho tanto figlio, se sei che metto, voglio restare, se sei un mondo, voglio metterlo Mi non ho sentito, no, voglio metterlo Bene, dopo questo bel pezzo crossover vi diamo un po' le pacelline su questo Seven Artisans 7,5 mm Allora, cos'è che mi piace di lui? Innanzitutto i materiali Fin dal primo impatto, li avete visti nell'unboxing quando trovi il tappo in metallo dici wow, poi lo prendi in mano e senti che c'è tanto tanto peso il peso non è tanto il metallo ragazzi, è il cristallo ottico infatti abbiamo visto 11 elementi in 10 gruppi è un progetto davvero complesso, particolare e appunto abbiamo visto con buoni risultati e la costruzione è fatta davvero molto bene non ci sono giochi e c'è davvero un bel piacere al tatto la resa appunto rimane buona e ultimo ma non meno importante l'avete visto fin dalla copertina il prezzo, vi lascio sempre i link qui sotto in descrizione attualmente costa 169 euro davvero poco per un gran bel pezzo di metallo e vetro come questo e invece cos'è che non mi piace? beh effettivamente queste belle ghiere hanno alcuni effetti innanzitutto il passaggio da infinito a un metro di distanza messa a fuoco saranno davvero 3-4 gradi di rotazione è troppo poco, basta un non nulla per spostarlo anche perché secondo punto le ghiere sono poco frenate che fosse per il diaframma anzi anzi ma per la messa a fuoco l'avrei voluto effettivamente con più attrito in modo da riuscire a fare la messa a fuoco con più precisione più attrito e più corsa capito sette artigiani ultima cosa c'è un errore sulla scala delle distanze non so se è dovuto al fatto che Mario utilizzano lo stesso barilotto anche per ottica appunto non micro 4 terzi ma magari a PSC full frame quando io mi trovo praticamente a 0,5 quindi a mezzo metro in realtà sono a 20 centimetri di distanza che è una bella differenza quindi non ci si può basare sulla scala di distanze dove tra l'altro appunto non è indicata la scala dell'iperfocale bene ragazzi tutto qui spero che vi sia piaciuta questa recensione questa poi è l'ultima del canale con la vecchia grafica e anzi perdonatemi questi giorni pubblicherò soltanto poche recensioni una questa settimana una la prossima perché appunto sto preparando la nuova grafica mi sto rilassando per la Pasqua auguri anche a voi e comunque ciao a tutti e al prossimo video Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie.